Santiago Vacca, 54, Forza Italia centrodestra, sono segretario coordinatore provinciale Forza Italia Savona, per rappresentare il territorio e per cercare di portare a Roma i suoi problemi e risolverli. Indubbiamente, essendo di Forza Italia, direi che sollevare il gravame fiscale, il flat tax è una battaglia del nostro presidente Berlusconi, che condivido, e quindi sollevare il gravame fiscale. Io, ad esempio, una delle azioni dell'attuale governo che ha funzionato, credo che sia l'operato del ministro degli interni per quanto riguarda il contenere questa immigrazione clandestina. Credo che si possa sicuramente fare meglio, ma la strada che ha iniziato, ha dato dei buoni risultati, è una strada che io condividevo già prima, ne parlavo già prima che lo facesse, il ministro degli interni l'ha fatto e quello credo che sia un'iniziativa da continuare e da potenziare. Sono numerosi i punti di discontinuità con questo governo. Credo che ci sia molto da fare, ci sia molto da fare per sburocratizzare, ne parlerò nei prossimi punti, credo che questo governo poteva sicuramente fare meglio per quanto riguarda le iniziative volte all'impresa. Per la crescita della Liguria, le priorità per me sono le infrastrutture. No a tagli lineari, tagli che premino chi ha fatto bene il proprio lavoro e quindi chi spende troppo ed è fuori parametri ai tagli. Chi invece fa bene il suo lavoro, amministra con il giusto numero di dipendenti e con il giusto numero di spesa, non abbia quei tagli. Questo dà un impulso di meritocrazia nella pubblica amministrazione che non riscontriamo perché come sempre i tagli sono lineari. Per abbassare la tassazione, un'azione completa è la flat tax, più completa di quella. Sicuramente continuare con una politica di decontribuzione perché l'occupazione, oggi il lavoratore costa troppo all'impresa. Non è possibile che si dia uno stipendio e che il costo di quello stipendio sia praticamente raddoppiato, quasi il 100%. È troppo alto, è fuori da ogni parametro europeo. Dobbiamo allinearci con dei parametri europei e in qualche modo starci dentro. Ma io credo che ci sia molto da crescere nel settore del credito, nel settore bancario. L'Italia ha marcato il passo su queste cose e si è visto nella crisi del settore bancario. Un'iniziativa potrebbe essere quella di standardizzare il business plan, che sono i piani di impresa. È una delle grosse carenze della nostra filiera del credito e questo si vede perché poi dopo uno dà dei finanziamenti e poi l'azienda non funziona. Un buon business plan permette innanzitutto di finanziare le imprese che funzionano, ma anche quando non funzionano di tarare il tiro. Se si fa un business plan, un piano di impresa che non riscontra quello che effettivamente si vuole fare, poi non si possono neanche trovare le soluzioni. Quindi piani di impresa fatti bene. Sicuramente accorpare le leggi, fare dei testi unici, fare sì che uno non debba avere dei testi, dei leggi che sono alti, se va bene, 40 centimetri, ma avere una legge per ogni settore. Quindi testi unici dove uno va lì e trova tutto quello che riguarda quel settore. Così forse si rende più facile capire come fare le cose. Per migliorare le infrastrutture e porte e collegamenti bisogna, per quanto ci riguarda, fare subito sia ferro che gomma. Noi dobbiamo sicuramente in Italia, c'è un ritardo infrastrutturale importante, ma in Liguria questo ritardo è ancora più grave. Bisogna sedersi e fare investimenti perché solo con gli investimenti si migliora l'area su cui, come dire, la piattaforma su cui far crescere le imprese. Formazione e contribuzione collegati. Non basta dare una decontribuzione e quindi incentivi per far assumere i giovani, ma dire ai giovani gli diamo contributi se sono assunti, ma se fanno formazione gli diamo ancora più contributi, perché l'affermazione aiuta gli giovani a essere produttivi prima. Le imprese, quando prendono un giovane e se non sa lavorare, glielo devono insegnare e ci mettono due mesi. Se il giovane è formato diventa subito produttivo, quindi legare la decontribuzione alla formazione, più decontribuzione se uno fa formazione. Voucher per gli asili nido, perché credo che la donna abbia necessità di essere aiutata nel suo ruolo di mamma. Non dico che non sia aiutata, credo che si possa fare di più. Altre nazioni europee, ad esempio la Francia, ha inventato o comunque ha realizzato questi voucher per gli asili nido, hanno funzionato. È nata un'attività economica che sono gli asili nido e le donne potevano con questo voucher portare i propri bambini e non gravare sull'economia della famiglia. Non tutte le donne hanno la possibilità, magari per lo stipendio del marito o per il benessere della propria famiglia, di avere delle risorse proprie per, come dire, collocare i bambini in luoghi protetti e sicuri. Con questo sistema, per esempio, si crea un sistema snello che fa economia e aiuta le donne. Da subito iniziare a rompere le scatole per portare avanti le infrastrutture. Io ho un pallino forse mio, sono ligure da sempre, sono vecchio abitante di questa regione, siamo periferia dell'impero, siamo nel terzo millennio e ci devono essere i migliori servizi. Credo che sia importante fare la doppio ferroviario, l'ultimo pezzo che deve collegare finale con Andorra. Credo che sia anche importante sbloccare la linea ferroviaria verso Torino, quello che c'è la struttura di San Giuseppe. Credo che sia molto importante fare una bretella autostradale che colleghi il ponente a Predosa, quindi liberi l'isolamento della Val Bormida con il casello di altare e fassa sì che chi viene nel ponente a passare un po' di vacanze non debba rischiare di fare 6, 3, 4, 5, addirittura 6 ore di coda solo perché c'è il tappo di Voltri. Si fa una bretella che parte da dietro a Bologhetto, Loano, Pietraligure, va ad altare e si collega a Predosa e spariscono le code e c'è più viabilità, una 10 meno rischiosa e quindi utile per tutti. Un tweet è che la Liguria è un luogo ideale dove vivere e lavorare. Beh, per me il vento è cambiato.